Americo Di Benedetto, consigliere regionale di Legnini, presidente comunale del Passo Possibile, non scioglie la riserva della sua candidatura alle prossime comunali a sindaco, ma al tempo stesso, su precisa domanda risponde che se non si troverà unità da parte della coalizione, il Passo Possibile andrà da solo con un loro candidato, cioè lui. Si ritira ma non troppo insomma? Non è proprio così, ha precisato. Non è un passo indietro perché non ho mai fatto un passo avanti. Mi è stato chiesto di candidarmi dal Passo Possibile già ad ottobre. Ma io posso dire che senza sintesi noi andremo con un nostro candidato sindaco e sarò io. Non ci sono le condizioni però adesso, ha chiarito Di Benedetto, per sciogliere la riserva perché non registro una condivisione di tutte le forze di riferimento. Non ritengo le primarie uno strumento idoneo perché già ne abbiamo pagato le conseguenze in passato. Serve una volontà unanime, ha ribadito, quindi il Passo Possibile chiede alla città di fare un passo avanti alle forze politiche, di riunirsi attorno a un nomunitario e non ad un tavolo. Il mio intervento è stato, credo, molto chiaro. C'è la volontà veramente di andare a vedere se c'è il sentimento per costruire qualcosa di alternativa al governo cittadino che è claudicante e zoppo o se ci sono altre esigenze anche di carattere politico che io rispetto ma mi ben guardo dal condividere e dal prestare fianco alle stesse. Di Benedetto ha poi ringraziato il PD Tutto. Ora è presente in conferenza anche il consigliere regionale Pietrucci, ha passato poi il rassegno ai problemi della città, lanciando strali contro l'operato dell'attuale amministrazione. Riuniremo gli organismi del Passo Possibile, ha chiarito, per capire quale sia la migliore strada. In campo, nel centro-sinistra, come ormai noto, ci sono le candidature dell'onorevole Stefania Pezzopane, che da tempo ha dato disponibilità, difficile che faccia un passo indietro. Quella del capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo, che ha dato anche lui disponibilità, sempre ipotetiche per ora. quella del professore e l'avvocato Fabrizio Marinelli, lanciato dal Movimento 5 Stelle e dall'ex premier Giuseppe Conte, che però non ha intenzionato a misurarsi neanche lui con le primarie e lo ha detto a chiare note.